Musica Sanità da oggi il via all'esenzione del ticket per i cittadini con redditi fino a 15.000 euro. Appolla unità operativa di ematologia in primo piano. Controlli e viabilità in vista delle festività pasquali e delle successive 25 aprile e 1 maggio. La polizia stradale intensifica i controlli. Trasporti. Gli studenti universitari del Vallo di Diano lamentano di servizi nei collegamenti con l'Università di Salerno. Teggiano. Il 23 aprile arrivo della reliquia di San Giovanni Paolo II a San Marco dove resterà stabilmente custodita. Giornata dello sport. Ieri festa e divertimento con i più piccoli. Stasera il convegno. Buongiorno gentili telespettatori. Ben ritrovati con questa edizione con l'informazione di Uno News. Apriamo l'ampia pagina dedicata alla sanità. Intanto dalla regione Campania con un decreto a firma del commissario ad acta per la sanità e presidente della regione Stefano Caldoro è stato innalzato il limite da 13.000 a 15.000 euro per accedere all'esenzione E10 patologia cronica o malattia rara. A maggio l'esenzione ticket riguarderà anche i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo tra i 36.151 euro e i 50.000 euro. Vediamo. Il presidente della regione Campania Stefano Caldoro in qualità di commissario ad acta del settore sanitario ha emanato un nuovo decreto che da 13.000 a 15.000 euro innalza il limite reddituale per accedere all'esenzione E10 patologia cronica o malattia rara condizione che appartiene al 50% circa dei cittadini. Dopo l'abolizione della quota regionale sulla compartecipazione in vigore dal 1 gennaio scorso continua l'attività per rendere efficace ed allargare l'esenzione. La prossima scadenza è prevista per il 1 maggio. A partire da questa data la stessa esenzione totale con le medesime condizioni toccherà i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra i 36.151 euro e i 50.000 euro. La Campania è l'unica regione d'Italia ad aver previsto la correlazione del ticket ad un doppio parametro ovvero le fasce di reddito e il numero dei componenti del nucleo familiare. È un sistema che assicura un elevato livello di certezza fanno sapere dalla regione che produce come conseguenze esenzioni certe. Il decreto stabilisce anche che le ASL rendano disponibili in tempo reale al sistema tessera sanitario gli elenchi aggiornati degli esenti per patologia e o malattia rara entro il 30 aprile e che la presentazione delle autocertificazioni da parte dei pazienti non presenti nelle liste possa avvenire dopo 15 giorni dall'entrata in vigore della rimodulazione al fine di evitare inutili adempimenti a quelli non a conoscenza dell'esenzione attribuita automaticamente. Andiamo avanti nel pieno rispetto degli impegni da noi assunti così dichiara il presidente Stefano Caldoro. Per quanto di nostra competenza continuiamo nell'azione di riduzione dei ticket per le famiglie campane. Erano troppo alti per scelte sbagliate ed errori commessi negli anni da chi ci ha preceduto. Interveniamo innanzitutto per le famiglie più bisognose. Ci auguriamo, conclude Caldoro, adesso che il MEF rispetti i tempi per rendere operative anche altre misure. E restiamo con la sanità, passiamo all'ospedale Luigi Curto di Polla dove tra le eccellenze delle unità operative sicuramente va sottolineato il lavoro svolto dall'unità operativa di ematologia. Ne abbiamo parlato con la responsabile, la dottoressa Elisa Focarile. Ascoltiamola. Sono già diversi anni che in effetti io ho cercato di diagnosticare e trattare tutte le patologie ematologiche e soprattutto oncoematologiche. Naturalmente prevalentemente quelle che possono essere non solo diagnosticate in questo presidio ma anche trattate. E prevalentemente parliamo di patologie croniche, patologie linfoproliferative e mieloproliferative. Quindi l'attività insomma sta procedendo molto bene e con veramente un numero, sono tanti insomma i pazienti che vengono da diverse zone non solo del Vallo di Diano ma anche di tutta la provincia di Salerno, anche della Basilicata e Calabria e anche tutto il Cilento. Poi in questo momento diciamo che ha una casistica anche maggiore perché vengono anche dei pazienti della provincia di Napoli proprio perché c'è il centro unico di prenotazione e quindi diciamo che c'è anche più affluenza. Restiamo all'ospedale Luigi Curto di Polla dove questa mattina si è reso necessario l'intervento della Polizia Municipale che ha elevato numerose contravvenzioni nei confronti di automobilisti indisciplinati che avevano parcheggiato la loro autovettura nei pressi del passaggio pedonale per accedere all'ospedale. Le autovetture erano state lasciate in sossa ostruendo irrimediabilmente il passaggio sia dei pazienti che dei visitatori e soprattutto dei disabili che non hanno potuto accedere alla struttura. Visto il disagio causato si è reso indispensabile l'intervento dei vigili urbani che giunti sul posto hanno provveduto ad elevare numerose contravvenzioni. Ancora a Sanità dall'ASL di Salerno arriva la notizia della delibera per l'acquisizione di numerose apparecchiature da distribuire poi nelle diverse strutture ospedaliere della provincia salernitana tra le quali anche l'ospedale di Polla e l'ospedale di Sapri. Vediamo. In arrivo presso gli ospedali salernitani nuove apparecchiature elettromedicali. Ad annunciarlo l'ASL di Salerno che lo scorso 31 marzo ha emesso la delibera finalizzata al rinnovo del parco tecnologico aziendale. Circa 2 milioni di euro stanziati per l'acquisizione delle nuove apparecchiature chiamate a potenziare diversi reparti dei presidi ospedalieri della provincia salernitana tra i quali anche gli ospedali di Polla e Sapri. In particolare è prevista l'acquisizione per il rinnovo della strumentazione di tre trocostratigrafi destinate alle unità operative di radiologia degli ospedali di Rocca d'Aspide, Sapri e Vallo della Lucania. Le unità operative di anestesia e rianimazione di sei strutture ospedaliere saranno presto dotate di nuovi apparecchi per anestesia. 12 in totale le apparecchiature che saranno acquistate con 5 destinate all'ospedale di Battipaglia, due a Nocera, due per l'ospedale di Polla e uno per Oliveto Citra, uno per Vallo della Lucania e uno per Eboli. Sette nuovi autoclavi per i blocchi e operatori destinati due a Nocera, uno ciascuno per Eboli, Oliveto Citra, Polla, Sapri e Vallo della Lucania. Infine è prevista l'acquisizione di quattro nuovi microscopi operatori per le unità operative di oculistica destinate alle strutture ospedaliere di Polla, Eboli, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania. 26 in totale quindi le nuove apparecchiature che l'ASL di Salerno ha deliberato di acquistare e per i quali presto sarà avviata la procedura di gara. La costante attenzione sull'andamento del bilancio aziendale di questa direzione, ha spiegato il direttore generale dell'ASL di Salerno Antonio Squillante, ha consentito di liberare risorse per continuare nell'azione di approvvigionamento di importanti apparecchiature elettromedicali per tutti i presidi ospedalieri dell'azienda. In questo modo stiamo garantendo ai cittadini utenti risposte sempre più adeguate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. E' di tutta evidenza, ha concluso Squillante, che i conti della nostra azienda già dall'anno 2013 sono positivi. Dopo aver azzerato i debiti siamo riusciti a chiudere anche il 2014 con un utile di bilancio che ci sta consentendo di realizzare innumerevoli investimenti. E passiamo ora alla cronaca. Una ragazza di origini rumene stava percorrendo questa mattina in bici il rettilineo della strada provinciale 39 che collega Prato Perillo di Teggiano al bivio di San Marzano quando è stata investita da un'autovettura per cause ancora in corso di accertamento. La ragazza che si stava recando al lavoro a San Rufo ha riportato diverse ferite ed escoriazioni e lo stesso autista che ha investito la donna ha immediatamente provveduto ad avvisare i soccorsi. Per fortuna la ragazza non è in pericolo di vita ed è attualmente ricoverata presso l'ospedale Luigi Curto di Polla. Sull'incidente sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. E sempre i carabinieri della compagnia di Sala Consilina al comando del capitano Emanuele Corda nella serata di ieri sono stati chiamati ad intervenire per un'aggressione subita da un giovane di Caggiano. Un ragazzo minorenne infatti è stato colpito alla testa con un martello per futili motivi da un altro giovane. Quest'ultimo è stato fermato dai carabinieri della locale stazione che lo hanno denunciato in stato di libertà. Trasportato presso il vicino ospedale di Polla il minorenne ferito è stato rifertato con alcuni giorni di prognosi e lo stesso ragazzo ferito però è stato poi segnalato come assuntore di sostanza stupefacente in quanto è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga. Andiamo avanti, sono ormai imminenti le festività pasquali ma anche il giorno del 25 aprile festa della liberazione del primo maggio festa dei lavoratori. In tali occasioni si intensificano i controlli da parte della sottosezione della polizia stradale di Sala Consilina ad annunciarlo l'ispettore capo Rufino Tortora. Ascoltiamolo. Saranno attuati nelle prossime festività pasquali e soprattutto nei ponti del 25 aprile e l'1 maggio saranno attuati dei servizi particolari un incremento di pattuglie voluto dal compartimento della polizia stradale Campania e Molise e Basilicata dal dirigente superiore dottor Salomone dal primo dirigente dottoressa Papa che è la dirigente di sezione c'è un incremento di pattuglie su tutta la rete autostradale infatti si contano almeno una quindicina per quanto riguarda Sala Consilina sono state approntate 15 pattuglie per tutto quanto l'arco delle 24 ore quindi un aumento di più siamo intorno ai 30-40% delle attività normali. Noi prevediamo che i giorni più caldi sono la vigilia di Pasqua e poi il giorno successivo a Pasquetta poi i giorni proprio più caldi sono stati segnalati i ponti dal 25 al 1 maggio. Saremo attenti, saremo presenti e questo è un grosso sacrificio anche da parte dei colleghi dei dipendenti della sottosezione polizia strada di Sala Consilina che si sono visti anche rifiutare i concetti ordinari per poter essere presenti sulle strade, sull'autostrada ma soprattutto anche sulla strada nazionale sulla nostra rete esterna che delle volte da noi è tralasciata purtroppo perché abbiamo più prediligiamo l'autostrada. Consigli utili, velocità controllata cinture di sicurezza attenzione ai telefonini e soprattutto attenzione al bere l'alcol e stiamoci attenti oggi la maggior parte degli incidenti gravi succedono per disattenzione. Degli studenti universitari del Vallo di Diano che usufruiscono del servizio trasporti per il collegamento arrivano per il collegamento tra l'università e il Vallo di Diano arrivano lamentele per l'ennesimo caso di disservizio verificatosi peraltro in concomitanza della chiusura dei corsi in vista delle festività. Gli studenti universitari del Vallo di Diano lamentano un disservizio nei trasporti chiedendo maggiore attenzione alle esigenze di chi quotidianamente usufruisce degli autobus di linea per raggiungere l'università di Salerno. Secondo quanto riferiscono nella giornata di ieri studenti e lavoratori a conclusione dell'ultimo giorno di corsi prima della pausa per le festività pasquali si sono ritrovati in circa una cinquantina a dover usufruire di una navetta per raggiungere il terminal bus. Navetta che disponeva soltanto di 20 posti a sedere successivamente gli stessi hanno dovuto attendere l'arrivo dell'autobus proveniente da Napoli per il ritorno a casa. Un autobus che però secondo quanto riferiscono disponeva soltanto di pochi posti a sedere con circa una quindicina di persone che sarebbero state costrette a viaggiare in piedi da Salerno fino al Vallo di Diano pur pagando regolarmente il biglietto. Giustamente chi non è riuscito ad accaparrarsi il posto all'interno del pullman ha preferito scendere e attendere l'arrivo del successivo previsto dopo circa un'ora e mezza peraltro completamente vuoto. Astizire i pendolari che quotidianamente da diversi anni per diverse ragioni usufruiscono dei mezzi di trasporto e il continuo verificarsi in vista delle diverse festività che siano natalizio o pasquale del disservizio con l'impossibilità di avere posti sufficienti per il trasporto di tutti gli studenti e lavoratori che negli ultimi giorni di corsi lasciano tutti l'università allo stesso orario sia da Napoli che da Salerno per poi essere costretti a lunghe attese per l'arrivo del successivo mezzo di trasporto. Gli studenti del Vallo di Diano sottolineano di non volere assolutamente sollevare polemiche verso la ditta di trasporti che effettua il servizio ma chiedono semplicemente che la stessa possa magari gestire in modo diverso gli orari degli autobus in particolare in coincidenza delle festività e quindi della conclusione dei corsi visto anche ripetersi del disagio. Un futuro migliore sottolineano gli studenti universitari del Vallo di Diano si può avere partendo dalle piccole cose non sottovalutiamole. Ci richiamo ora a Salerno ieri mattina ennesimo falso allarme bomba presso il tribunale di Salerno ormai come ormai d'abitudine però anche in questo caso tutte le forze dell'ordine sono state allertate dalla polizia e carabinieri dai vigili del fuoco agli artificieri vediamo doppia telefonata doppio allarme bomba a Salerno in pieno centro dove poco dopo le nove è scattata l'evacuazione del tribunale di Salerno di Corso Vittorio Emanuele e della confinante scuola elementare vicinanza al telefono l'annuncio di un ordigno esplosivo che ha fatto immediatamente allontanare dalle aule del tribunale tutti i presenti nonché i bambini dalla scuola per consentire alle forze dell'ordine di verificare se effettivamente ci fossero bombe nell'edificio un allarme lanciato in maniera anonima che però non ha fatto scattare apprezzione e timore tra i presenti che innanzitutto hanno pensato alla telefonata di qualche buontempone desideroso di fare un pesce d'aprile ma allo stesso tempo anche il pensiero della volontà di qualcuno di far saltare qualche processo penale che doveva essere celebrato in giornata eventi che si sono registrati infatti già in altre occasioni sospese le udienze tutti gli avvocati ed il personale atteso sul corso Vittorio Emanuele in corso Garibaldi che gli artificieri terminassero la bonifica operazioni che si sono estese nel giro di poco tempo anche alla sede del tribunale fallimentare di via Papio dove anche in questo caso per l'allarme e bomba si è reso necessario chiudere al traffico la strada vigili del fuoco polizie e carabinieri sono stati fatti giungere sul posto provvedendo a ricintare la zona ritenuta a rischio per motivi precauzionali sono state fatte evacuare anche le abitazioni confinanti con la sezione fallimentare mentre i pompieri hanno verificato la veridicità della presenza di un ordigno in entrambi i casi le verifiche hanno dato esito negativo l'unico risultato raggiunto è stato un rallentamento delle attività giudiziarie con un gran numero di persone in strada che attiravano la curiosità dei passanti e degli automobilisti in transito che hanno rallentato il traffico in pieno centro Roscigno Vecchia un sito turistico da valorizzare tutelare ne è consapevole l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Palmieri così come tutte le associazioni impegnate in tal senso noi ne abbiamo parlato proprio con il sindaco Pino Palmieri ascoltiamolo ma noi oltre a Roscigno Vecchia anche a Montepruno al parco archeologico stiamo cercando di fare sistema solo con una proposta organizzata e facendo sistema si può cercare di dare veramente un respiro più ampio a quello che offre il nostro territorio noi stiamo legando a Roscigno Vecchio delle iniziative legate soprattutto a momenti di religiosità abbiamo fatto Presepo 900 adesso faremo il 28 di marzo faremo la via Crucis che verrà ripresa poi faremo un cortometraggio sempre a Roscigno Vecchio sull'ultima cena cioè creare un tema che possa contraddistinguere il nostro territorio anche perché un prodotto televisivo può essere facilmente anche comunicato alla platea che non è solo quella di Roscigno ma noi ci candidiamo a far conoscere il nostro territorio oltre confine questo piano piano lo stiamo facendo abbiamo grazie alla presenza di rifugiati politici tra cui due ragazzi armeni siamo riusciti anche a mettere in linea un prodotto che è un portale di promozione turistica molto bello che vi invito ad andare a visitare roscignonuovo.com dove vogliamo proporre un'offerta abitativa sia permanente che turistica stiamo lavorando però sono cose che si riescono a fare con poche migliaia di euro e non spendendo come ripeto milioni di euro che molte volte non trovano poi un ritorno sia economico che sotto l'aspetto di organizzazione territoriale e ora spazio alla pubblicità riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie bentornati alla seconda parte del nostro Tg andiamo a sala consiglina dove l'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per l'aggiornamento dell'elenco di professionisti cui poter affidare incarichi progettuali direzione e contabilità dei lavori coordinamento della sicurezza e delle attività accessorie di importo inferiore a 100.000 euro relativi all'esecuzione di opere pubbliche come si legge dall'avviso possono partecipare professionisti abilitati allo svolgimento di servizi tecnici la formazione degli elenchi non pone in essere nessuna procedura selettiva paraconcorsuale né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali ma semplicemente l'individuazione di soggetti ai quali rivolgere l'invito un elenco è costituito dai soggetti in possesso dell'iscrizione rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti che abbiano prodotto idonea domanda secondo le modalità indicate nel bando la domanda di partecipazione dovrà pervenire all'ufficio protocollo del comune di sala consiglina entro e non oltre il 15 aprile 2015 ci spostiamo ora a Teggiano la diocesi di Teggiano Policastro sarà presto una delle poche a custodire una reliquia di prima classe di San Giovanni Paolo II la reliquia consistente in una ciocca di capelli del santo padre morto il 2 aprile del 2005 di cui oggi ricorre il decennale dalla scomparsa sarà accolta e custodita dalla comunità di San Marco di Teggiano il prossimo 23 aprile una grande gioia attende la comunità di San Marco distintasi nel tempo per il forte attaccamento verso la figura e gli insegnamenti di Giovanni Paolo II dal prossimo 23 aprile infatti una reliquia del Papa Santo a 10 anni dalla sua morte sarà affidata alla parrocchia di San Marco Evangelista Teggiano come dono per tutta la diocesi di Teggiano Policastro la reliquia consistente in una ciocca dei capelli del Santo Padre di cui oggi 2 aprile ricorre il decennale della sua salita al cielo sarà consegnata direttamente nelle mani del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca dal postulatore della causa di canonizzazione di Carol Voitiva per poi consegnarle alle cure della comunità di San Marco e a Don Cono di Gruccio una comunità parrocchiale da sempre vicina a San Giovanni Paolo II che lo scorso mese di ottobre accolse la reliquia consistente nel sangue del Santo Padre con una serie di appuntamenti correlati per approfondire e rilanciare alcuni dei principali messaggi lasciati da Papa Voitiva nel corso del suo pontificato ricordando la sua vita e ripercorrendo il cammino che ha portato Carol Voitiva a diventare l'uomo simbolo per traghettare l'umanità nel nuovo millennio una figura che a San Marco viene costantemente portata ad esempio anche per far conoscere alle nuove generazioni le sue opere e i suoi messaggi dopo la breve seppur intensa permanenza della reliquia del sangue di San Giovanni Paolo II ora la comunità di Teggiano e dell'intero Vallo di Diano si prepara ad accogliere nuovamente la figura del Papa di Cracovia con una reliquia detta di prima classe in quanto difficilmente reperibile trattandosi di parte del corpo del santo che resterà stabilmente custodita a San Marco di Teggiano esposta alla venerazione dei fedeli va sottolineato che fino ad oggi non è mai stata fatta ricognizione dei resti mortali di Voitiva pertanto le uniche reliquie di prima classe esistenti sono quelle prelevate dal segretario del Papa Polacco al momento della morte di San Giovanni Paolo II tra queste poche difficilmente reperibili oltre al sangue già giunto a Teggiano lo scorso mese di ottobre custodito in una teca a forma di libro aperto la ciocca di Capelli che giungerà il 23 aprile a Teggiano che sarà custodita in una teca realizzata dagli studenti del liceo artistico di Teggiano su disponibilità del dirigente scolastico Rocco Colombo e sotto la guida del professor Germano Torresi e ora passiamo allo sport ma in particolare con un evento particolarmente dedicato ai giovani e agli sportivi del territorio perché sono stati ieri circa 100 i bambini tra i 7 e i 15 anni impegnati per la prima giornata dello sport organizzata dall'associazione ASD Valdiano questa sera intanto il programma prevede l'importante convegno su valore dello sport e i riflessi socio-sportivi nella realtà del Vallo di Diano si è svolta ieri pomeriggio la prima delle due giornate organizzate dalla società ASD Valdiano nell'ambito dell'iniziativa denominata la giornata dello sport a partire dalle ore 15 le compagini del Valdiano e del Sant'Arsenio Calcio categoria giovanissime si sono affrontate sul campo Vertucci di Teggiano in una gara avvincente che ha visto la vittoria della formazione ospite dalle 17 invece presso la palestra Salus partner dell'evento si è giocato un triangolare che ha visto coinvolti una cinquantina di bambini che rappresentavano le società dell'ASD Valdiano del Buonabitacolo Soccer e del Sant'Arsenio Calcio tanti sorrisi tanta gioia e soprattutto tanto divertimento ha accompagnato la prima giornata dello sport che come sottolineato dagli organizzatori rappresenta un momento importante per i bambini l'obiettivo di questa manifestazione è diffondere la cultura sportiva tra i più piccoli educarli al valore e all'importanza dal punto di vista psicofisico dell'attività sportiva ma anche la volontà di fare dello sport un motore di aggregazione sociale di conoscenza di partecipazione e soprattutto divertimento dando la possibilità ai più piccoli di relazionarsi con gli altri coetani ma anche con i più grandi questa sera alle ore 21 invece in programma il convegno su valore dello sport e i riflessi sociosportivi nella realtà del Vallo di Diano un evento che vedrà la partecipazione oltre della prima squadra allenata da mister Tudisco anche della compagine che ha chiuso al quinto posto il campionato di allievi regionali interverranno al convegno anche autorità del mondo politico e del mondo sportivo e ascoltiamo ora le interviste realizzate al segretario della SD Valdiano Carmine Di Gruccio e Antonia Delia che è istruttrice della palestra Salus partner di questa iniziativa dedicata allo sport la SD Valdiano ha deciso di fare questa manifestazione perché effettivamente il Vallo è una grossa fonte di calciatori è una grossa risorsa per tutti quanti noi è un modo per stare con i ragazzi di fatti sta iniziando il primo torneo dell'esordiente giovanissimi alla palestra Salus c'è il torneo dei primi calci Pulcini dove partecipano tutte le alcune società del Vallo poi successivamente l'anno prossimo in un'altra occasione parteciperanno altre squadre il nostro impegno sarà quello di continuare con questi tornei la prima giornata dello sport cioè di discutere sullo sport socio sportivo nel Vallo questo Vallo che è una grossa utente di giocatori noi giochiamo col campionato della Livia regionale andiamo a Napoli andiamo in provincia di Salerno col campionato di eccellenza però vediamo che nelle altre realtà i ragazzini gli under i cosiddetti under che debbano giocare per forza nella squadra sono giocatori loro del posto cresciuti dal settore giovanile e poi giocano in eccellenza questa è la nostra intenzione di sfruttare tutta questa utenza di ragazzini del Vallo e di portarli così e di collaborare con tutte le società sportive che sono presenti sul territorio e qui ci sarà la conclusione la serata conclusiva interverranno dirigenti della federazione di calcio di Napoli della sezione di Salerno presenti della comunità montana presenti di tutte le società del Vallo più o meno quasi tutte insomma quelle che siamo riusciti ad invitare a condattare anche esponenti politici i sindaci gli assessori allo sport e giustamente la squadra della S di Valdiana nel cercare di vedere un po' quali sono le problematiche le situazioni del calcio dello sport in generale nella nostra zona noi siamo qui presso la palestra Salus perché grazie all'SD Valdiano abbiamo organizzato insieme questo piccolo torneo con i bambini della scuola calcio molto importante la promozione dello sport proprio per questi bambini ed è importante sapere che diciamo un bambino se fa attività fisica più o meno dalle due alle tre volte a settimana è l'ideale per mantenersi in un perfetto benessere psicofisico sappiamo che noi ci teniamo molto alla promozione dello sport sin dall'età più piccola perché è proprio da lì che nasce la vera e propria educazione del bambino secondo noi infatti il punto centrale dell'educazione e anche dell'allenamento è soprattutto la socializzazione abbiamo organizzato questo torneo appunto per far incontrare più bambini e far capire un po' anche come ci si relaziona sia dentro ma anche fuori un campo di calcio diciamo che noi ci teniamo sempre a promuovere lo sport proprio perché anche dati allarmanti ultimamente ci spiegano che diciamo su cinque bambini tre sono inattivi non fanno nessuna attività fisica anche sapendo che tutti i benefici che può portare quindi bambini fate sport noi siamo contentissimi di essere qui ringraziamo la S di Valdiano e con lo sport e la giornata dello sport termina il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ringrazio